Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro Draver, come è il solito Mirko, ma c'è il comeback di Andrea, salutati! Eh buonasera, buonasera! Sì sì sì! Perché hai levato il mute? Così, diretto! Drop PC4, levati il mute! E la prendo per l'oreccio, posso prendere l'oreccio? Troppo il PC4, ce n'è uno col C4! Andrea cosa dice? Che è tornato, un saluto, un dice nulla di buono... Mi ha salutato! Ah vabbè, no! Allora, già è tanto che ti vengo a vedere a Milano. Ah vabbè, quelli sono dettagli insomma. Sto in container io? Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo! Mi ha fatto da sotto la fessura delle telecamere, lo sapevo io. Sto sfondando, gliel'ha bruciata una carica, il bandit. Sì, gliel'ha bruciata. Bruciata, gliel'ha... No, gliel'ha bruciata anche l'altra, posso? Ah, posso, posso, posso. Ok, Andrea, l'hai visto? L'ingresso principale? Sì. L'ho giusto, però. L'hanno giacca, anche se non l'hai spottato, eh. L'hanno spagato la botola, la bomba B. Questa botola qua, Andrea. Ok, Andrea, che ne ho una qua, eh. Non l'ho giocata male anche io all'inizio, raga. Ce l'ho in cucina. Ferimento con trappola, ho ferito uno alla trappola. Eh, lo so, è sotto le scale, però non so. Dai, colla. Scala ai container. Ok. Ok, Andrea, ce n'è uno in bomba B. Il giacca l'ha escesa dalla botola. Poi mi si ricorda che non mi hanno fatto la botola. Eh, questo ne aveva due e ne aveva preso neanche uno. Eh, vabbè. Madonna santa. Non è morto neanche uno, neanche nel tuo caso. Va bene, va bene. No, ho sbagliato io, comunque. Vi ho lasciato in inferiorità numerica, non doveva andare lì. Sono stato troppo stupido. Ma perché non c'erano le botole fatte? Questi stanno entrati con le... Cioè, hanno spaccato con le cariche normali. Sì, no, no, ma non l'ho rinforzato nemmeno io. Ho sbagliato io. Sia nella posizione che non fare le botole, tranquillo. Andrea, che posso appena? Posso appena il signor Sledge oppure il DSR qualcosa? No, poi dobbiamo giocare stati. C'è un gioco che è veramente lenti. L'ho riso pure Nash. C'è la milla Sledge, prendi il touch. Saranno giù? Probabilmente no. Lascia il drone su, Raffa, non su. Non è in dove scendi giù col Drunk. Sì, 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 sì. Era solo per spottare le bombe, quantomeno. Raffa, nasci dall'altro lato con me. Se ce la fai... Sì, ce la faccio, ce la faccio. Valkyrie primo piano, camera matrimoniale. Occhio, Spunkill, Spunkill centrale. Da dove? Prendi la bomba. Valkyrie, Spunkill centrale. Primo piano, camera matrimoniale. Il drone non è Raffa. Sì? Primo piano, Valkyrie. Conferma, mi ha fatto il drone. Camera matrimoniale ancora. Non c'è un altro drone, eh? Vai. Ok, aspetta, Andra era qua, eh. Occhio. L'ho vista io. Che mi ha attivato. Eccolo lì. Qua, 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 qua. Tu, tu, tu. Ha switchato, ha switchato, ha switchato. Buona. No, vabbè, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Perché mi ha... Perché Cortana mi ha attivato? Io non ho par... Guarda! Non ci credo. Veramente. Prendiamo a spaccare, Raffa. Prendiamo a spaccare. Eh, sta arrivando a spaccare, ma... Però non spacchiamo questo muro grande, spacchiamo quello piccolino. Eh, la backdoor, certo. Eh, ma usa l'amp comunque, dai. Non c'è, non c'è più un minuto, però vabbè. Neanche dall'altra parte. Vai, vai. Cioè, nessuno del drone ha fatto due buchi dal garage. Cioè, un in garage e in armadietti, secondo me. Ok. L'armadietti è morto. Sta andando un'altra bomba, una, eh. Che sarebbe il bandit, se non sbaglio. Raffa, vai dove c'è... È già dentro a uno. È già dentro a uno. Vai dove c'è il bandit. Sì, sto piazzando. Stai piazzando, Raffaè. Eh, l'ha fatto dal buco. No, mi ha fatto dall'altra bomba. Dal buco, dall'altra bomba. Eh, dal buchino dell'altra bomba. Brutta questa. Ci voglio credere. Ok, l'altra bomba. Lì, a destra. Lì, lì, lì. Prova a destra, a destra. Prova a destra, a destra. Lo vedi? È buono, lo vedo. Ti ho fatto col buchino. Niente. Perché l'hai pushato? Non puoi sfidarlo così. Niente. Hai dizioni! C'è poco da dire, questo è bravo. Però maledizioni, oh. Sto sbagliando tutto. Io non so come ho mancarlo, sinceramente. No, ma lì non pusharlo. Lì non pusharlo. Spottalo, piuttosto. Ma non pusharlo. Non ho alchiri, eh. Posso prenderlo un minuto o no? Non so come è morto con la alchiri. Sto guardando con la cam. Poi magari riguardati l'episodio così vedi se sei smirciato qualche colpo. A me non risulta. Dai, 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 dai. Maledizione. Poi, 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 black eye. Dove? Andiamo qua. Ragazzi, io faccio le bottle. Black eye lì. L'ultimo black eye lo mettiamo esterno? Sì, devi mettere esterno. Tu unili qualcosa, fai qualcosa. Bottle infatte. Se l'ho messo malissimo. Infatti. Vabbè, ormai. Sto gemmerando. Ma com'è che non mi fanno quelle cose? Ok. Ma qua non posso passare. Ma stanno su da deraffa? Uno, sì. Preso uno. E non è il Twitch. Sai che stanno attaccando anche da sopra. Vabbè, sono morto io ma è morto anche lui. Vediamo il lato positivo. Jackal out, Twitch out e anche un altro. Non mi ricordo che. Stanno sfondando con l'esotermica. Backdoor probabilmente. No. Bottola, bottola. Vi so, vi so. Ok, buona, Mirko. Dai, dai, dai. Arrivo a dei termite a questo punto. Così, 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 ma la farei di Jackal, sincero. Prendi il termite, eh. Prendi il termite. Mi raccomando, raga, droniamo. Stiamo all'occhio e chiamiamoci la roba. Io metto il drone piano di sopra, così vediamo se c'è al primo piano qualcuno. Beh, sì. A parte... No, non c'è neanche più Ash, è vero? No. Siamo senza push la parte ibana, ma non so. Bomba su, bomba giù, sai. Bomba su, bomba... Ah, mi ha visto. Maledizione, oh. Guarda, io nel mio te l'ho visto. È presente dove c'è il muro ricompensato che è dall'esterno? Sì, 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 sì. Fammi, fammi droniamo a me, un attimo. No, droniamo io. Che cosa stai facendo? Droni tu? Ok. Vabbè, sì, il droniamo è trovato. Va, va. Ma aspetta. Fammi un buco. No, salta dalla finestra e poi dalla porta. Eh, in questa stanza, guarda che è in questa stanza qua. Non la stanza alla giusta. Non c'è la caveira a ultimo piano, eh. L'ho mancata io. Raga, troppo lenti, raga. Caveira lì. Questa. Eccola. Angolino. Sai che controllo se c'è il mute. Ce ne sta un altro, ce ne sta un altro. Controlla bene. Un altro. Ah, ok, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Quello è fuori. Raga, in matrimoniale ce n'era una, eh. No, io stavo facendo un piano lì sopra. In matrimoniale ce n'è una. No, 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 no. Ah, perfetto, vabbè. Ci dura, Fala. Abbiamo fatto perdere tempo ancora in matrimoniale. Mollalo. Io stavo andando sulla bomba. Eh, io sto qui sul matrimoniale e copro le scale. Ok. Sono sovrendo la bomba, eh. Sono sovrendo la bomba. Sì, sono io, sono io. Tranquillo, tranquillo. C'è maffatto, ma non ci posso attreverso. Stavo anche correndo. Stavo anche correndo. Vabbè, le ho fatto perdere tempo almeno. Il dock è sempre sopra, eh. Sta scendendo. Arrivano. Non ce la fa, non ce la fa. Preso uno. Ottimo. Buona. Il matrimoniale pensavo aveste guardato. Infatti ci sono andato tranquillo. Meno male che ha avuto i riflessi. Valkyrie l'ha presa. Jager ce l'hai tu. Eh, a questo punto vai, dock. L'hai preso tu. Smoke, va. Andiamo? Sala cucina o sala da pranzo? Sala tv, sala tv. Ne sto io su. Ok, dai, io tappo container. Faccio le botole. Allora, l'interno principale ne ho individuati due. Arrivano all'ultimo piano, arrivano. Arrivano all'ultimo piano. Ok. Sì, c'è il blitz all'ultimo piano. Blitz all'ultimo piano. Occhio, è entrato, è dentro. Vedo anche un altro in fondo. Uno, il termite sta per cercare di fare quella. Il termite sta per cercare di fare la... Sono andato qua, fermo, 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 fermo. C'è il termite dall'altra parte. Ho visto il termite che vuole appiazzare nella sala da pranzo. Si è messi male qua. Aspetta un attimo. Presash, dove è nascondato Raffa? Ripete. No, no, vicene scalepioli. Muro laterale. E anche container. Sopra c'è qualcuno. Sopra c'è qualcuno. C'è Andrea, c'è Andrea sopra. Questo è giacal. Buono, faccio esplodere la smoke. A meno così. Ok, ce l'abbiamo qua. Bella, Andrea. Preso il drone, bella, Andrea. C'è che hanno sfondato la sala da pranzo, lo sapete? Sì, infatti, la sala da pranzo è sfondata, ragazzi. Vero, vero, termite. Buona, buona. Sono un po' pushato, però era... Ho visto qui il sfondato e ho detto, ma è in queste stanze. E infatti è colla. C'è, va a dover. Buona, buona, buona. Sottometraggio di Sneak in questa scena. L'ha fregato il cellulare, l'ha fregato. Sneak, c'è una nuova missione. Metal Gear al Droga. Come on, come on. Andiamo del sono. Vabbè, piano terra, via. Diretto proprio. Così, subito. Ciao. Ciao, belli. Spottati tutti. Sappiamo già chi hanno. Ok, Andrea, ti drono sopra? Vai, Raffa. Sì, sì, sto arrivando. Allora, stanzino, manichini, libero. Libero anche il ripostiglio. Guarda, scale, occhio. Scale, scale, scale e smoke. Scale e smoke. O chiunque sia. Mute o smoke. Hai fatto il drone? Sì, me l'ha fatto. Aspetta, sta arrivando con un altro. Eh, scale, mira. Scale, mira. Primo piano. Tra piano terra e primo piano. Scale, mira, angolo. Scesa. Lungo, lungo da te. Lungo da te, lungo da te. Eh, mancato. Mira, mira, mira. Destra, mira a destra. Corri, do io uno. Ok. Occhio, arrivo. Sto scansionando, eh. Raffa, coprimi. Dai, vai. A terra, eh. Vai, a terra, a terra. Allora, in compensato non vedo nessuno. Neanche in piano. Ma lo guardo da dove sta. Bam, preso uno. Compensato sotto la botola, Raffa. Compensato sotto la botola, stavo. Ma ragazzi, non entriamo. Sì, hanno aperto il muro di garage. Hanno aperto il muro di... Raffa, devi aiutare. Devi chiudere in diagonale. Eh, lo so. Sto cercando di fare il possibile. Muori, muori schifoso. Muori schifoso. L'ultimo è incompensato. L'ultimo è incompensato. Vai, puoi, planta, amico. Planta, è incompensato, ti ho detto. Che sta. Non da qua. Fischio. Ok. Buona. Buona dalle scale. Vedi perché non l'ho fatto? Perché avevo visto il coso di mira. Da sopra. In diagonale dalle scale da sopra. Dimmi dove sta, Andre, se ci vai. Nel corridoio. Corridoio piccolo, tra le due bumbe. Piccolo, alla tua sinistra. Alla tua sinistra. Ok, ok. Fai tranquillo. Buona. Andre, non l'ho fatto perché avevo già visto che era sfondato. Non volevo rischiare di spostarmi e far succedere quello che è successo. Era one shot. Avevo venti di vita. Solo per quello. Non potevo farlo. Io l'ho parlato perché se ti metti là, di solito il primo non so dove si vede quando uno si affaccia. Eh, lo so. Lo so. Cioè, uno deve sempre fare e ti fa lo stesso. Però piuttosto che muerci così, almeno avrei preso tempo. Vabbè, dai. Va bene. Nel mio problema abbiamo vinto, abbiamo giocato bene, abbiamo recuperato la partita. Abbiamo iniziato male. Ottimo. E ci mancano poco più di 200 punti per arrivare al platino 1. Ottimo. Quindi ragazzi, vi raccomando, like e supporta questo video, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao.